Ciao ragazzi, bentornati su Belda Radio, siamo qui allo Youth Center a Gela per una giornata straordinaria. Oggi una giornata di formazione per l'internazionalizzazione delle scuole, i Twinning ed Erasmus Plus rivolte alle scuole siciliane e in particolar modo alle scuole della provincia di Caltanissetta, anche se sono arrivati veramente presidi e docenti da ogni parte della Sicilia. All'organizzare l'incontro l'Istituto Ettore Romagnoli di Gela con la docente Tiziana Finocchiaro. Ciao Tiziana. Ciao a tutti. Ciao. E il preside dell'Istituto Romagnoli. Preside, prego, si avvicini, un saluto. Buonasera a tutti. Come è andata questa giornata e come l'avete vissuta voi della Ettore Romagnoli? Allora, devo dire che la giornata è andata benissimo, c'è stata una corale partecipazione da parte delle scuole non sostanto della provincia di Caltanissetta ma anche un po' di tutta la Sicilia a dimostrazione appunto dell'importanza sia dell'Erasmus, di Twinning e del modo di fare scuola avendo come l'ottica sempre un modello europeo dell'educazione. Tiziana, qui abbiamo portato delle grandi personalità a rappresentare questo evento. Abbiamo le dottoresse Laura Nava che è il capo di unità per il settore scuola ed educazione degli adulti all'Agenzia Uranus Plus. Salve a tutti, buon pomeriggio. Benvenuta. E Donatella Nucci, capo unità e-twinning per l'Italia. Salve. Tiziana, allora, raccontaci un po' come è nata questa partnership e come è nato questo evento qui a Gela? È nato a causa o in favore del fatto che sono una persona molto insistente, devo dire, ho colto l'occasione di porgere un invito, ho sollecitato la partecipazione, la presenza di Erasmus sul nostro territorio, in particolare nella nostra scuola e nei locali di The Youth City Factory, la dottoressa Nava mi ha chiamata, buongiorno, salve, Erasmus Plus. Mi ha rilanciato. Eh sì. Ha rilanciato la posta. E adesso veniamo, adesso veniamo a trovarvi. E sì, si è messo in moto tutto un sistema e devo dire, grazie al supporto dell'ufficio scolastico regionale, noi oggi siamo qui e devo dire con una presenza ancora più importante rispetto a quella che avevamo previsto, con numeri diciamo fuori da quelli che erano i programmi, però tutto è bene, ciò che alla fine finisce bene perché ci dà soddisfazione sapere che sul nostro territorio e anche oltre Erasmus e i Twinning sono un richiamo, un forte richiamo. E allora dottoressa, iniziamo un po' a capirne di più queste sinergie tra Erasmus Plus e Fondo Sociale Europeo a beneficio delle scuole siciliane. In che cosa consiste e chi coinvolge? Beh, innanzitutto è un'attività pilota che stiamo facendo, è il primo accordo che facciamo con una regione per mettere insieme i fondi Erasmus Plus e i fondi Sociale Europeo perché dalle sinergie nasce una gestione più efficace, più efficiente dei fondi europei. In questo caso la regione siciliana ci ha indicato in dire il nostro ente di appartenenza come organismo intermedio per la gestione dei fondi e grazie ai fondi Sociale Europei abbiamo potuto finanziare più scuole che avevano fatto domanda all'interno di Erasmus Plus, più scuole siciliane, che avevano fatto domanda all'interno di Erasmus Plus ma che non avevamo potuto finanziare proprio perché i fondi Erasmus Plus li avevamo finiti. Quindi grazie a questa sinergia abbiamo potuto dare più opportunità a più scuole siciliane. Poi ci saranno altre iniziative nell'ambito Sì, no, no, in effetti per i twinning oltre alla giornata di oggi sono previste altre due giornate di formazione sempre nel territorio di Caltanisetta, diciamo in questa parte della Sicilia perché nonostante la partecipazione della Sicilia sia, creda anche all'azione K1 e K2, ma i twinning sia molto elevata, però diciamo riscontriamo una scarsa partecipazione dalle scuole di questa zona e quindi da una parte potenziamo la formazione di questa zona della Sicilia ovviamente nell'ambito del piano di lavoro per il Fondo Sociale Europeo concordato con la Regione Sicilia e la Regione Sicilia che ci dice a noi cosa dobbiamo fare e poi ci saranno anche iniziative di collaborazione con scuole della riva sud e del Mediterraneo. Per alcuni paesi si tratta di paesi che comunque partecipano ai twinning come Tunisia, va bene Giordania non da sul mare ma comunque sempre raggruppata come riva sud e poi appunto però si vuole cercare di incentivare collaborazione anche con scuole della riva sud e del Mediterraneo. Ma quali sono i requisiti per partecipare ai twinning? A nessuno, questa è la cosa bella di i twinning che si rivolge a scuole di ogni livello dalla scuola materna alla secondaria di secondo grado e diciamo segue come azione una logica diversa perché non sono previsti finanziamenti diretti alle scuole ma tutta una serie di servizi messi a disposizione gratuitamente alle scuole. Basta partecipare, basta entrare all'interno della piattaforma? Basta iscriversi e si può iniziare facendo partendo dal livello a cui si è e quindi anche se il livello è molto basso è un modo per iniziare a imparare a progettare e a muoversi in contesti internazionali. Mentre per Erasmus Plus in che misura le scuole siciliane partecipano al programma? Allora le scuole siciliane sono molto attive nel programma sia nei progetti per la mobilità per formazione dello staff dei docenti all'estero sia per i progetti di partenariato tra scuole. La Sicilia è una delle regioni a più alta partecipazione per i progetti di mobilità per l'azione chiave 1 che si tratta di progetti che finanziano la formazione all'estero dei docenti e dei dirigenti anche. La Sicilia è al secondo posto dopo credo il Lazio ma insomma i numeri sono altissimi solamente per la Sicilia nel 2019 abbiamo finanziato, andremo a finanziare la formazione di più di 500 docenti siciliani che andranno all'estero a fare un'attività di formazione o di osservazione in scuole straniere. Mentre per i partenariati tra scuole le scuole siciliane sono assolutamente al primo posto in Italia come partecipazione tenete presente che abbiamo circa 225 progetti in cui c'è una scuola siciliana che è al primo posto come regione a partecipazione più elevata e la seconda regione che partecipa di più che è la Puglia ha metà progetti rispetto alla Sicilia. Quindi la Sicilia sta staccando notevolmente tutte le altre regioni in quanto a partenariati tra scuole. Ma dopo questo settennato quindi 2014-2020 dal 2021 ci sarà un nuovo programma? Si ripartirà? Sì sì ci sarà un altro Erasmus Plus che ancora non si sa se si chiamerà Erasmus Plus anche questo probabilmente sì. La buona notizia è che la Commissione europea e gli Stati membri hanno deciso di investire ancora di più nel programma europeo. Si parla come minimo di un raddoppio dei fondi rispetto a quelli attuali quindi si parla più o meno di un minimo di un 30 miliardi di euro per tutti i sette anni di programma e rappresenta come dicevo prima un raddoppio rispetto ai fondi che abbiamo avuto in questo settennato precedente. E quindi questo vuol dire che si crede veramente nel valore aggiunto, nell'impatto che questo tipo di programma ha nei diretti beneficiari che in questo caso sono le scuole e chi ci lavora nelle scuole. Per cui è sicuramente una buona notizia. Tiziano siamo qui all'interno dello Youth Center e stiamo portando avanti questa formazione. Oggi su cosa stanno lavorando esattamente questi docenti? È un laboratorio e-twinning. I colleghi vengono guidati a lavorare sulla piattaforma quindi a scoprire le varie sezioni della piattaforma simulando anche la registrazione di un progetto con varie attività pertinenti con la didattica innovativa. Un numero molto elevato, vedo circa in questo laboratorio 40 docenti e altrettanti docenti nell'altro laboratorio. Devo dire possiamo ritenerci soddisfatti noi come scuola e noi come rappresentanti di un territorio che ha bisogno di sempre nuovi stimoli. Sì, ci tenevo a dire che il laboratorio oggi pomeriggio è condotto da quelli del nostro gergo, sono gli ambasciatori e-twinning. Sono degli insegnanti con grossa esperienza in e-twinning che collaborano con l'ufficio scolastico regionale proprio in queste attività di formazione. Nello specifico qui abbiamo Sara Bruno e Alessandro Ruffino e sono sempre molto disponibili a collaborare e quindi diciamo e-twinning ha anche questa dimensione di formazione tra pari, tra colleghi che è uno degli aspetti belli di-twinning. Per chi ci sta guardando in questo momento e volesse accedere alla piattaforma, la piattaforma qual è? Allora la registrazione avviene sulla piattaforma www.itwinning.net che è la piattaforma europea. Naturalmente vi do anche il sito nazionale che corrisponde alla nostra unità che è sempre e-twinning, www.itwinning.net per Italia. Mentre su Erasmus Plus? Su Erasmus Plus abbiamo un sito che è sempre aggiornatissimo www.erasmusplus.it che trovate tutte le informazioni, gli aggiornamenti, la struttura del programma e ovviamente seguiteci anche sui social, su Facebook, su Twitter, basta che digitate Erasmus Plus in dire e vi vengono tutti i riferimenti, anche su Facebook, ovviamente viene aggiornato in tempo reale e quindi le notizie più fresche le trovate in anteprima lì. Grazie. Grazie a voi. E per l'Istituto Romagnoli? Per l'Istituto Romagnoli oggi è un giorno di festa perché noi siamo sempre disponibili ad aprire le porte all'Europa. Abbiamo coinvolto anche ragazzi, alcuni dei ragazzi che hanno e che partecipano ancora a Erasmus. Li abbiamo investiti del ruolo di... Li abbiamo incaricati di accogliere gli ospiti, di curare la registrazione, di distribuire qualche piccolo gadget. Obiettivo è quello di far capire loro che Erasmus non è soltanto quello che loro vivono nella didattica a scuola ma è anche un momento di incontro con adulti e con l'agenzia che abbiamo adeguatamente presentato come che è stato finora solo una sorta di entità astratta mentre adesso sembra acquisire quasi dei tratti somatici. Un volto. Allora, dobbiamo ricordare che ad organizzare l'incontro è stato l'Istituto Ettore Romagnoli insieme ad un'altra scuola primaria Enrico Solito e allo Youth Center di Gela nella persona di Salvo Di Simone. Salvo, che è qui, è dietro la telecamera. Sta arrivando. Buon pomeriggio a tutti. Buon pomeriggio a te. Avvicinati qui al microfono. Allora, è sempre stimolante vedere lo Youth Center pieno di attività e soprattutto questo coinvolgimento delle scuole? Beh, oltre a essere stimolante è un'emozione. È un'emozione pura perché ogni giorno non riusciremo neanche ad immaginarci in fase di progettazione. Ogni giorno lo Youth Center è pieno di attività. In questo momento si sta realizzando questo laboratorio. Qui accanto abbiamo un altro laboratorio con dei ragazzi che stanno operando un laboratorio di valorizzazione delle esperienze culinarie e gelesi. Quindi stiamo lavorando su più livelli. È veramente un'emozione perché uno degli obiettivi del progetto è proprio quello di costruire una comunità educante. Qui la professoressa Tiziana Finocchiaron è la coordinatrice e questo evento si inserisce proprio all'interno di questa azione. E quindi è veramente un piacere, un onore, sono lusingato della presenza di così tanti educatori tutti insieme, riuniti, grazie alla presenza dei nostri ospiti illustri, che stiamo realizzando la costruzione di questo obiettivo molto ambizioso che è costruire una comunità educante in un territorio dove ve ne è molto bisogno. Grazie Salvo, ma ringraziamo la dottoressa Laura Nava. Grazie a voi. Per Erasmus Plus. La dottoressa Donatella Nucci per i Twinning. Grazie, è un piacere. Tiziana Finocchiaro, il dirigente dell'Istituto Ettore Romagnoli di Gela. Buonasera a tutti. Per noi è un grande onore averla qui, soprattutto dopo tutti i workshop che abbiamo fatto insieme alla sua scuola. Possiamo anche dirlo che abbiamo lavorato alimentando in maniera trasversale Erasmus. Uno dei nostri progetti si occupa proprio di imprenditorialità in maniera molto semplice. lavoriamo sul potenziamento di questa competenza chiave. I ragazzi fanno impresa, impresa vera, e imparano a comunicare al territorio attraverso anche questo canale, che è il canale della radio, di cui tu sei stato, voglio dire, mentore, se vogliamo dirlo. Siamo sempre in corsa, sempre in corsa sulla comunicazione. È importante anche ricordare che la rete, fare rete e fare squadra sono la chiave per il successo dell'azione formativa. I ragazzi hanno bisogno di sapere che la scuola è un ente formativo allargato. La scuola non è l'aula, ma la scuola è il territorio. Loro hanno fatto scuola in questi locali, hanno imparato. Hanno imparato così tanto in 10 ore, 12 ore, e adesso hanno una carta vincente, una carta in più. Probabilmente li aiuterà per il loro futuro. Spendibile. Quindi, per oggi, da qui, dello Youth Center è tutto. È stato veramente bello ed emozionante condividere questo momento con voi. Poi ringraziamo Valentina Strazzande che è dall'altra parte della telecamera, oggi in veste totalmente nuova. Quindi Erasmus Plus e i Twinning saranno un motore in più per il nostro territorio. Grazie a tutti, condividete questa puntata e Listen2, bella radio. Ciao! Ciao, ciao! Ciao, Cecilia!